Buonasera a tutti, come promesso oggi ho pensato per voi una ricetta con le castagne. Vi farò vedere gli ingredienti e man mano vi spiegherò il procedimento. Allora, quello che occorrerà è la coda di rospo, appunto le castagne, questa è una crema e queste sono delle castagne fatte in padella e dopo arrostite per rendere un po' croccanti. La coda di rospo io l'ho tagliata a bocconcini. Adesso vi farò vedere, preparerò la base. Partirò da olio freddo, questo è un olio all'aglio, in modo tale che non si attacchi il pesce nel fondo della padella. Dovete far rosolare i bocconcini. Intanto già ho carato le tagliatelle nell'acqua, perché queste hanno 7 minuti di cottura. Una volta che il pesce è quasi cotto, andiamo ad aggiungere un pizzico di sale. Non userò il vino, ma con gli scarti della coda di rospo ho fatto un fumetto. Quindi olio, serrano e cipolla, fate rosolare, dopodiché mettete le rischie della coda di rospo, fate rosolare anche quella. Una volta che è rosolata, e quindi si attacca sul fondo della padella, andrete a sfumare con un po' di vino e aggiungete l'acqua. Fate cuocere per circa 40 minuti. Poi un giorno vi farò vedere quello che io faccio di solito. Quindi la base è pronta. La pasta sta cocendo, vi spiegherò come fare questi altri passaggi. Quindi andrete a piantere le castagne, le metterete dentro una pentola con l'acqua e le fate bollire fino a quando siano cotte. Le scolate, le sbucciate e le ponete su un fondo di una brocca o un recipiente, insomma. E andrete ad aggiungere leggermente un po' di olio e se le castagne le lavate bene prima con l'acqua al fondo di cottura, quindi sarà scuro, vi andrete ad aiutare proprio con quello per rendere la crema più o meno scura. Questo è il risultato. Con queste altre castagne invece le ho aperte, le ho fatte aprire sulla padella, dopodiché le ho sbucciate e le ho fatte diventare croccanti appunto con la padella bella rovente. E questo è il guanciale croccante. Il caffè dopo vi spiegherò a cosa serve. A questo punto la pasta è cotta e la scolerò in padella. A seconda della cremosità della pasta aggiungete o meno il fumetto di pesce. Una volta che la pasta comincia a tirare fuori l'amido andrete ad aggiungere la crema di castagne. Diciamo che siamo arrivati quasi al giusto punto di manteca. Aggiungerò leggermente ancora un po' di crema di castagne. E adesso procederò ad impiattare. Musate. andrò a mettere i bocconcini, dopo di che aggiungeremo il guanciale croccante che potete farvi prima, le castagne croccanti, andate a mettere un ciuffo di rosmarino e un po' di polvere di caffè, questa potete anche non usarla, io la uso perché il contrasto con l'odore e il gusto del piatto è pazzesco, quindi tagliatelle con bocconcini di rana pescatrice, crema di castagne e guanciale croccante. Lo Chef Davide vi saluta, alla prossima videoricetta!